buonasera ben trovati bene per questa sera ho intenzione di preparare una trancia di salmone con carciofi abbiamo qua una bella trancia di salmone eccola e dei carciofi che ho già preventivamente sbollentato in acqua per pochi minuti così abbreveremo i tempi di cottura la nostra piastra è già pronta andiamo a preparare il nostro condimento chiuserei sia per i carciofi che verrà che per la nostra trancia di salmone prepariamo in una ciotola mettiamo un pochino di olio buonasera mettiamo d'olio extravergine ovviamente intanto scaldare la nostra ciao a cesare buona serata prendiamo il limone non trattato e lo mi grattigiamo la scorza che darà un buon profumo al nostro piatto quindi metteremo sia la scorza che il succo del limone poi prendiamo uno spicchiettino di olio ci vuole uno spicchietto di olio eccolo qua appena appena con i carciofi e con il consulano ci vuole un pochino e lo mettiamo un pochettino senza esagerare ecco fatto poi mettiamo un pochino di mentuccia fresca o secca in questo caso io ce l'ho secca utilizzerò un pochino di mentuccia secca ecco qua benissimo poi aggiungeremo del succo di limone mettiamo un pochino di sale benissimo emulsioniamo un pochino aggiungiamo un pochino d'olio bene la nostra piastra è calda e adesso gireremo in questo condimento i carciofi li andiamo a cogliere come vi ripeto li abbiamo sbollentati e fatti bollire in acqua un pochino in questo modo bene di coppino si aprivitando e adesso prendiamo anche la nostra pranzia di pernone mettiamo un pochino che sta bene come se la nostra pranzia di pernone il campo rimane nella marinatura e facciamo portere un pochino i nostri racciotti non mi non mi non mi non mi? anche questo è un pochino E' una cottura molto breve e veloce. Così, se erano già cotti, già posti volentari, sarà più veloce la nostra cottura. Facciamo aggiungere anche la nostra granza di cannele. Ecco, 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 ecco. E adesso aggiungiamo il nostro cannele. E lasciamo cuocere un pochino. Adesso, magari, tiriamo qualche pittina di limone da mettere sopra. Proviamo la nostra granza. Allora, pariamo la pittina di limone. Il nostro piatto è pronto. Qua. Vedete? Questa è curcuma. Potete utilizzarla per dare un tocco di colore al vostro piatto. Molto semplicemente. Poi faremo anche qualche piatto con la curcuma, perché è un ottimo rinuncio. Vedete? Non si parla di azzurro. Noi non si parla di azzurro. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. I nostri canciati si stanno ritornando per il venino. Vedete? Il peggio è tutto lì. Ha un po' di erzo. per usare i cacciotti è una lettura di stagione e tra l'altro come dice l'interno quindi questo piatto è sicuramente un buon piatto anche abbastanza aumentare e ci siamo ancora qualche minuto e il nostro piattino è bello e finito non ci vuole molto se volete chiedermi qualche cosa tranquillamente ancora qualche minuto e il nostro piatto sarà pronto poi è vero abbiamo un po' di più un po' di più piatto avete ragione solo in questo periodo siamo un po' pesati al lavoro siamo un po' stancati a poco tempo qualche buon piatto anche con il pesce lo faremo ok promesso è chiaro che vi dobbiamo utilizzare anche una cucina al torno come la vita di smettere una piastra la traduzione del pollo è più semplice però ecco qua non è un po' di più non è un po' di più non è un po' di più Siamo arrivati a domenica. Ma avete visto che è davvero difficile. La nostra bella della ricetta di canone. Vediamo i nostri calciotti. Vediamo anche soltanto i calciotti in questo modo. In modo diverso. Per gustare una bella vettura. Perfetto. Perfetto. Ci siamo. Il nostro piattino è pronto. Ecco qua. Ciao Raffaele. Buona serata. Ecco qui. Mettiamo i nostri pettine di limone. Voilà. Eccolo qua. Il nostro piatto è bene pronto. Salutare è gustoso. Mi raccomando. Ok? Vi auguro una buona serata. Un bacio e un abbraccio. E ci vediamo alla prossima ricetta. Buona serata. Grazie di tutto.